La corsa, la musica e il cibo sono gli ingredienti principali dell'evento. Quest'anno per la prima volta Rantunar sarà Ego Sostenibile. E' uno sport sano, vedo vedere questa gente, questa piazza piena di persone che corrono, che vanno poi a correre nelle strade e in mezzo ai nostri porti. I credit cercano le manifestazioni che combinino un po' le due dimensioni, quella locale, di una banca fortemente radicata sul territorio e internazionale. Farlo in una manifestazione come quella della Rantunar è qualcosa che regala davvero un'emozione importante. Il mondo della corsa è importantissimo anche per il nostro brand e quindi questo penso che sia anche per noi in un orgoglio di fare come Matteo questa grande manifestazione. All'interno del Centro del Nord ci sono diversi corridori, da una semplice sponsorizzazione, ci piacerebbe unire un gruppo. Lo sport è una passione che abbraccia specialmente tutte le culture sociali, tutte le professioni. Creato questo trofeo che abbiamo chiamato Concorniamo per la legalità, soprattutto a concorrere che la piccola 52 della Costituzione si scomiglia in maniera evidente. Però il principio è chiaramente condiviso da tutti. Radio retro, ranzo mano. Radio retro, ranzo mano. Vi aspettiamo, tutti. Dovete correre anche voi, proviamo.